La battipagliese rende noto di aver tesserato il difensore laterale Domenico Rocchino, classe 1999. Rocchino, che ha già vestito la casacca della battipagliese nella passata stagione e prima di allora, era stato con il San Vito Positano in eccellenza, ha dichiarato Sono contento di essere ritornato a battipaglia, sono stato bene in passato e adesso darò il massimo per questa maglia. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Mario Pietropinto per la prossima gara di campionato, proprio contro il San Vito Positano.